Signori, bentornati su Dragon Ball Z V2K HD Collection Sigla Eccolo, tutto cazzo Dio mi sa che arriviamo su una Mac Eccoci, e no, mi ha saltato tutta la battaglia Già è arrivata la squadra a Genio Ma regà, ha schippato tutto praticamente Io voglio vedere veramente com'è la saga di Freezer Tutta la battaglia di prima con Sarbon, Dodoria Non c'è tra l'altro Ok, it's my turn Non si sfondo il culo Bastardo Ragazzi, ora lo smacello, vi giuro Con le mie Kamehameha assurde Ehi E io c'ho il... Ma non mi batterei mai Io voglio vedere che cazzo è questo quadro triangolo X, veramente Ok, metti, aspetta Ma non succede nulla Ehi, basta, vai di Kamehameha Io faccio solo le Kamehameha È impossibile giocare Oddio Oh, Recom di merda Peccate sto... Non so come si fa, ho perso Penso di aver vinto, forse No, non vincerò mai sto... Ma non ho capito come funziona Fatemi sapere come funziona qua sotto nei commenti Oddio Cos'è? Ho fatto una nuova mossa No, no Uno, due, tre, quattro E Kamehameha Pem Nel mentre vi invito ad unirvi al server Discord È qua sotto in descrizione, è gratis Oddio le balls Oddio, a pe ora Io vado a Krilinz Che stanno a dire? Non ho seguito il discorso Che stanno a dire Oddio Tutti sono di qui Menzi in nessuno, veci Cioè, forse non è chiaro questa cosa Eccoci Ma ci sono tutti No, devo battere tutta la squadra Genio Che due coglioni Facciamo di una merda Genio Genio, via Batti Colpisci Comunque devo dire I modelli sono veramente belli Vi giuro Ma anche bello Lo è tanto altro Il mio server Discord Ragazzi Vi invito a unirvi Se volete chiacchierare un po' Ci sono le fighe Ci sono le fighe Oh, guarda sto pezzo di merda Io voglio provare No, non succede nulla Se premo altri tasti Quindi quadrato, quadrato Il cerchio E fa la camera mia Basta Non c'è alternativa Allora Se invece tengo premo È più bello finirlo così No, cioè Ma che devo fare Ma che vuoi Ma non è vero Non è un Super Saiyan Guarda che bicipite Ora ce l'ho Stoppiamento Ma chissà se mi fa giocare Nei panni di Goku Con Genio però Sono molto curioso Di questa cosa Che stronzo Bellissimo Eccoci Guarda che bicipite Oddio che ho fatto Nei mani di Genio No Impossibile Che poi sta cosa È un mega vital Fanno lo sdoppiamento Oltre a cambiare corpo Cioè Oltre a cambiare corpo Cambiano anche la voce Allora È Goku O è Goku Genio Genio Ora non c'ho la camera mia Regà No E adesso Eh non posso fare la camera mia Non c'ha mosse Genio Comunque non è colpa mia Ma è veramente Non c'hanno mosse C'è una Goku c'è solo la camera mia Oh Non ti permettere mai più eh Ti permettere mai più Oddio non voglio morire Non sono mai morto Cioè per adesso Non ho perso neanche una battaglia Regà Dall'inizio del Del walkthrough Ah coglione Agia Goku Come go Bam No Bastardo Ok sono veramente soddisfacenti I combattimenti Vi giuro Bam 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 Mori No raga L'ultimo colpo Non posso morire Posso morire No non posso morire Mi Mi incazzo veramente Ok 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 Va bene Vediamo la cinematica Stop Prevento Madonna Non è che culo qua Oddio la spirale così è bella Dai la rana Voglio vedere No ma non c'è la rana Io devo lanciare la rana Io cancello il gioco Se non lancia la rana contro Gini Eeeh Recupero Si platina ragazzi Qua eh Si platina Non voglio sapere niente Mi fega un cazzo Si platina Scimbuto Non è scimbuto Non ho lanciato Ma no no Signori il video finisce qua Spero vi sia piaciuto Vi invito inoltre a seguire i prossimi Che asceranno in questi giorni Ma soprattutto di unirvi al server Discord Deve rimanere a seguire Su Instagram Vi lascio i link qua sotto Nella descrizione Niente Iscrivetevi Per forza Per forza Allora scusate ragazzi Beh Non so se la toscanità O il fatto che ci stava bene Nello spazio che ha lasciato Non so se la toscanità